Qui passa dal comando del movimento delle forze armate. Le forze armate portoghesi chiedono che tutti gli abitanti della città di Lisbona si raccolgano nelle loro case, le quali si devono conservare con la massima calma. Aspettiamo sinceramente, speriamo sinceramente che la gravità dell'ora in cui viviamo non sia tristemente segnalata da qualche incidente personale per cui chiediamo il buon senso dei comandi delle forze militarizzate affinché siano evitati confronti con le forze armate. Tali confronti, oltre che non necessari, potranno solamente condurre a seri pregiudizi individuali che creerebbero divisioni tra i portoghesi, il che bisogna evitare a tutti i costi. Nonostante la preoccupazione espressa di non far correre la minima goccia di sangue di ogni portoghese, chiediamo che lo spirito civico e professionale della classe medica augurandoci che la sua accorrenza negli ospedali affinché prestino eventuali collaborazioni che si desiderano sinceramente non necessarie. Grazie. Grazie. Grazie.